Oggi è una giornata? Mi devi dare una mano oggi? Oggi? Devo fare tutto quel trasferimento di dati dai computer rimoto a quello centrale in cui catalogare... vuoi dare una mano? Oggi no Oggi non puoi? Magari domani vediamo un pochino Domani? Perché domani sei più libero? Domani devo fare un sacco di colus E oggi che devi fare? Allora dammi una mano oggi Non devo fare niente, dà una mano a te Scusami Domani c'è un sacco di cose che puoi dare Vedi inserirti nelle cose che devo fare domani Oggi no Oggi niente Non devo fare niente Me l'ha detto per un imposto E niente faccio Ma una mano a me la puoi dare? Se non devo fare niente dà una mano a te Vabbè allora domani? A che ora? Domani non te lo posso dire Però magari domani Nel tardo pomeriggio ti inserisco Oggi lo faccio da solo e domani veniamo a me No no no, non fai una cosa Perché non... Perché tu non devi fare niente Appunto, non facciamo niente Ce ne usciamo un poco prima e andiamo a mangiare fuori Un giro per i negozi Scusami Scusami Ma scusami io devo fare queste cose Ma domani tu mi dai una mano che c'è un sacco di cose da fare Eh però ho detto che riuscirò a trovarti un buco Che riesco ad inserirti Ma oggi siccome non devo fare niente Ma io ho da fare niente E che devi fare? Eh devo lavorare, questo è un esperimento dei dati Eh ti do una mano io domani Vabbè oggi che faccio? Niente, vabbè Andiamo a fare un giro per i negozi Una passeggiata Ti porto al prato fuori Cioè tranquillo Però domani mi dai una mano Domani si Vabbè facciamo così Anche perché io domani c'ho anche altre cose da fare Eh ti trovo Eh vabbè Allora oggi non si fa niente No Ma dove? Ma chi sei corretto? Ma arriva in ufficio In varia Ah certo Vento a prenderti alle sette e mezza Non farmi aspettare Non farmi aspettare Omicina